Adlis sarà un tema costante. Il giuro Adlis sarà un tema costante per mano. Questo cosa... certi hanno interpretato cosa ha detto. Dopo il secondo giorno ha detto in altra maniera che è tutto da buttare nell'acqua. Sicuramente l'importante è che lui sta giocando e gioca bene per Milan. E dopo abbiamo tempo anche di andare insieme, forse anche qualcosa a mangiare, anche non parlando di Algier o la Francia. Ma non è vero che tutti vogliono, ma non parlando di essere un giocatore. Non parlando di una religione, non parlando di una religione. Non parlando di una religione, non parlando di una religione. Tutti vogliono bravi giocatori. Tutti vogliono? Bravi giocatori. Tutti vogliono cionuri che ci presta e le voce ormai. Tutti vogliono Ettore Stato Ook Zito Tutti dasu